ciao amici io amo il riso anche freddo e voi lo trovo pratico gustoso e risolve tante situazioni anche a noi piace per renderlo un piatto anche salutare lo preparo integrale e aggiungo ingredienti smart oggi voglio condividere con voi una ricetta speciale l'insalata di riso con noci e melagrana se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco la ricetta ingredienti 150 g di riso integrale 50 g di feta o tofu affumicato 4 foglie di menta fresca una melagrana in chicchi 6 noci tritate olio extravergine di oliva sale e pepe preparazione cuocere il riso integrale in abbondante acqua salata scolarlo e farlo raffreddare nel frattempo tagliare la feta o il tofu a dadini estrarre i chicchi della melagrana tritare le foglie di menta e le noci a pezzettini unire tutti gli ingredienti al riso e mescolare bene delicatamente gnam è un piatto fresco leggero e saporito vediamo le proprietà degli ingredienti il riso integrale particolarmente ricco di lipidi proteine fibre e minerali è più amico dell'intestino rispetto al riso bianco e sazia di più con meno calorie la feta è un formaggio fresco di origini greche fatto con latte di pecora o capra non è troppo grasso perché contiene molta acqua ha una forte concentrazione di vitamine minerali come calcio e fosforo ma anche sodio da assumere con moderazione il tofu affumicato è ricco di proteine povero di grassi contiene vitamine e minerali il sapore affumicato lo rende molto più saporito e gradevole rispetto al tofu bianco la menta è una delle erbe aromatiche più ricche di principi attivi benefici è digestiva antigonfiore antifermentazione rinfresca e favorisce la depurazione le noci sono un frutto a guscio ricco di grassi buoni facendo attenzione alle calorie la noce fornisce antiossidanti protegge il cuore e previene le malattie degenerative la mela grana è ricchissima di sostanze antiossidanti è considerata molto più di un semplice alimento un super food ma che dico un vero e proprio integratore ne ho parlato a lungo in questo video dove mi sgranocchio tutti i chicchi e poi spiego perché e per vedere tante altre video ricette video su cibo e salute naturale è facile basta iscriversi al canale con un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati appena esce un nuovo video mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao